Tossicodipendenza, ma anche ludopatia e da ultimo, ma non meno inquietante, uso smodato di internet e social network. Crescono nei numeri e negli aspetti preoccupanti le forme di dipendenza, soprattutto tra i giovani nella nostra regione. Se è vero che almeno un terzo dei ragazzi umbri hanno fatto uso di cannabis e altre sostanze pericolose, secondo la prefettura di Perugia, e a parlare di vera e propria allarme sociale, è proprio il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, tra gli ospiti del convegno Usa la bussola, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che si è svolta alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, durante il quale è stato evidenziato anche il costo sociale e l'aumento della percezione di insicurezza da parte dei cittadini dovuto ai reati per procurarsi le sostanze. Il convegno è stato un'occasione di approfondimento, finalizzata ad offrire una maggiore consapevolezza dell'entità dei fenomeni e della loro diffusione, ma anche occasione per presentare un nuovo bando promosso dalla Fondazione Perugina, destinato alle scuole secondarie di primo grado, per finanziare progetti informativi e di prevenzione delle dipendenze. Il bando che andiamo a presentare oggi mette a disposizione del territorio 150.000 euro che sono dedicate alle fragilità minorili. È un bando che nasce dall'ascolto che la Fondazione ha riversato sul territorio, quindi abbiamo avuto delle consultazioni con gli enti preposti, le istituzioni regionali, le istituzioni comunali riguardanti chiaramente il settore dell'istruzione ed è emerso che stanno nascendo delle nuove fragilità, delle nuove forme di dipendenza giovanile che partono ad età molto precoci e quindi in effetti per cercare di risolvere il problema alla radice, quindi anticipando i tempi prima che esploda, è importante agire su questa fascia di età. Il fenomeno delle dipendenze è molto sentito nella nostra provincia, direi in tutta la regione, noi abbiamo fatto un'attenta analisi del territorio e abbiamo deciso di contrastare effettivamente queste problematiche attraverso un'attività formativa, informativa che è appunto il convegno, ma quale migliore occasione per poter anche pubblicare un bando apposito per le scuole, per poter dare a tutti gli studenti la possibilità di approfondire queste problematiche, quindi noi supporteremo i progetti più meritevoli e speriamo una quantità più possibile importante per poter aggredire questi fenomeni delle dipendenze già in età scolastica. Stazzi in particolare ha fornito un altro dato significativo, in Umbria tra gli studenti tra i 15 e i 19 anni il 41% gioca ad azzardo e tra gli studenti che giocano il 7%, ovvero oltre 1000 unità, ha un comportamento problematico e un ulteriore 10%, pari a circa 1500 studenti, e a rischio di comportamenti problematici. E a sottolineare il trend preoccupante dei fenomeni di dipendenza, in particolare quello della ludopatia, è intervenuto anche Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Perugia. Il fenomeno della droga è certamente il fenomeno preoccupante, ma non sottovaluterei per niente la ludopatia che è devastante per le famiglie, per l'economia della famiglia, per l'economia dell'individuo, ma soprattutto per la psiche. Vedere quelle persone che stanno di nascosto nei bar, che peraltro creano delle salette appartate, perché evidentemente da un lato si vergognano, si protegge la privacy, ma nello stesso tempo si incentiva l'uso, proprio perché si consente di farlo di nascosto. Vedere quelle persone che trascorrono ore e ore a giocare a quelle stupide macchinette mi consenta di dire. È una cosa che fa male a loro, ma fa male anche a noi. Un monito sottolineato anche da Pietro Paolo Fausto De Gidio, presidente nazionale FEDER-SERD, Federazione Italiana degli Operatori di Dipartimenti e Servizi delle Dipendenze, che ha parlato dei fattori di disagio biologico e ambientale alla base delle dipendenze, evidenziando come il monitoraggio da parte dei genitori e l'adozione di buone prassi a scuola siano fondamentali, sia per valutare i sintomi di una dipendenza, sia per associare adeguati programmi di prevenzione. Un ruolo essenziale nella costruzione di una rete di prevenzione che deve coinvolgere le famiglie e i ragazzi stessi spetta proprio alla scuola. Da qui l'idea del bando della Fondazione Cassa del Risparmio di Perugia, rivolto agli istituti di scuola secondaria di primo grado.